Ciao Hai aspetta? Perchè lei viene stoppata? Possiamo cercare di andare più veloce? Buongiorno Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Ti piace? Mi sorrida così, non mi piaci di più Vieni, baciami ancora Come sai fare tu? Comunità non piace Stare in casa perché Dai come vieni via a gustare un gelato più fresco che c'è Ti piace? Ti piace? Ti piace il gelatino? Mi piacciono il panda, mi stacchi il nocciolino Ti piace? Ti piace? Ti piace il gelatino? Voi la fragolina? La devi, vai a me Mi piacciono il panda, non preme il cioccolato Ti piace? Ti piace? Ti piace il gelatino? Voi la fragolina? La devi, dai a me Voi la fragolina? La devi, dai a me Voi la fragolina? La devi, dai a me Ti piace? E vieni, vai a me Ti piace? Ti piace il gelatino? Voi la fragolina? La devi, dai a te Voi la fragolina? La devi, dai a te Ti piace il gelatino? La fragolina? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.